Ciao a tutti, benvenuti tornati a Dragalia Lost. Quindi continuiamo la nostra Persona 5 Catch Desire Coverage oggi con un nuovo gacha. Featuring Ann, o Panther, se voi non sapere un nome reale. Questa gacha sarà la mia caratteristica per l'errore in un singolo rate-up, perché è solo Her e Arsene, quindi potrebbe essere una cassa wilde, specialmente con il fatto che non abbiamo molti pulsi, ma voglio provare perché è una collab, questi caratteri è limitati, e non posso aspettare per provare l'errore se lo sappiamo. Non ho raggiunto di ottenere Mona, i 3 pulsi non mi hanno dato nulla, e ero vicino a Sparking, ma ho detto che voglio prendere Ann, quindi passeremo a Mona, anche se potrebbe aver Sparking per lui. E' quello che è. Lo so che molti di voi diranno, perché non lo faccio? Questo sarà un caratteristico caratteristico. Sì, lo faccio, ma preferisco rischiare le mie possibilità, credo. Sono un po' così. Oltre che quello, ragazzi, potete Sparking per Joker e Mona in questo banner, un po' weirdo, perché non ci hanno detto questo quando annunciano i banners, che mi rende un po' salty, perché altrimenti probabilmente sarebbe venuto all-in su un banner, ma è quello che è. Abbiamo anche risultato il schede normale Dragaglia normale quando l'evento finisce, quindi meno video, ma più basato su Dragaglia staff, invece di personal staff. Abbiamo ancora alcune cose per cover per l'evento, abbiamo gli Omega Trials, abbiamo gli Omega Raid Boss e gli Omega Trials, ho provato a cover both trials in un video e poi fare l'Omega Battle. Oggi faremo la gacha e l'an-adventurer story, domani probabilmente una di queste due cose, e poi, ovviamente, il finale dell'evento, quando l'evento finisce, non preoccupatevi di questo. Oltre che quello, credo che abbiamo coverto tutto, lasciatevi sapere se ho fatto qualcosa. Ovviamente, se abbiamo fatto, faremo anche un guide per l'evento. Oggi, spero che avete piaciuto Sofie. Io personalmente amo Sofie, credo che, anche se non avevo mai avuto il personaggio prima Dragaglia, mi sentivo che è così buona in questo gioco, che ho avuto spero di giocare Strikers solo perché lei ha lasciato un'impressione su me. Io abbia piaciuto Sofie per ora, che è bello perché, inizialmente, non avresti sapere se avessi giocare Persona 5 Strikers. Inizialmente, mi sono stato esposto da Air by Dragaglia, che magari era il target di questo collab, chi sa. Ok, quindi come puoi vedere, abbiamo 10 single pull tickets, 1 10 pull ticket, 1 free pull, e anche 40 pulls from the Wearmites. Ci sarà sufficiente? Chi sa. Iniziamo con i single pull tickets che abbiamo avuto dall'evento, un'evento abbastanza generoso, come i passi, quindi sono abbastanza piaciuto di dire che Dragaglia è tornata in termini di generosità. At least, ho spero che sia, perché... Eh, ragazzi, alcuni tempi hanno avuto per noi, specialmente dopo un collab. Abbiamo già visto che abbiamo che abbiamo avuto Valentine Chelsea, che è venuto la prossima domanda. Non preoccupare di avere la storia, perché il secondo che ho fatto sul mio telefono è solo per questo. Quindi, abbiamo la storia di Chelsea sul canale. È stato la mia più, e ancora è, la mia più popolare storia di avventura sul canale. Quindi, non possiamo fare la storia come questo, e abbiamo la storia sicuramente. Il primo pull, che ci ha dato nulla, ma nulla per sorprendere, perché non abbiamo un single pull pull, come in forever. Io spero di ottenere una prima di usare tutto, perché mi piace di salvare per il futuro, perché chi ne sa cosa arriverà ora. E ho spero, davvero, davvero, che non ottenere un pull off, perché potrebbe essere un jogger, che dovrebbe essere molto male. se fosse Mona, non mi preoccupare, perché in realtà, potrebbe usare Mona, specialmente se abbiamo ottenuto un banner in cui non è fissuto. Quindi, è quello che è. Comunque, ho un Akito maxed out flamelance. Ho un personaggio molto molto amico per Persona 5. Poi potete dire che voglio pulire. Ok, abbiamo i freebies fuori, magari un altro perché è un ticket. vediamo se questo si riempirà il sole. Se non, dovremmo andare in la mia stagione, che era abbastanza ripensato grazie all'evento e altre cose, ma sembra che magari ora è l'ora di diventare, perché questo pull non mi ha niente. Man, quanto è stato l'ora, dopo aver avuto buona fortuna, sembra anni fa. Credo che sia una sorta di cursa che ho portato a me, perché in Fire Emblem Heroes e Fate ho ottenuto troppo 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 che Dragalia in generale. Ok, ora diventiamo la stagione, speriamo che vediamo la prossima perché sono davvero aspettato a fare una guida di Anakito non è la migliore avventura della collab, vi dirò questo. Annalizzando la guida oh, guarda, 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 per favore, per favore, per favore, per favore, non un dragone. Sì! Oh mio Dio, per favore, 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 per favore. sarebbe meraviglioso se abbiamo avuto davvero, veramente meraviglioso. Sì! Oh mio Dio, finalmente la guida è tornata. Man, sono molto felice perché finalmente abbiamo riuscito a riuscire per salvare il futuro. Oh, questo è davvero il miglior risultato che speriamo. Magari non il miglior risultato che avremmo avuto nel primo ticket, ma, sinceramente, con quanto male la guida ha stato negli ultimi gassi, questo è probabilmente un modo per finirlo e un modo per progressare verso la salvazione. Principalmente per due ragioni sono felice di questo. Prima, perché se ho messo un Hanna, probabilmente per un tempo secondo, perché se abbiamo il Pinon Dragon al fine del mondo, questo sarà un target principale per me, perché ho messo Pinon un buon dragon per lavorare, quindi è probabilmente la miglior chance di avere Gabriele, che è un dragon, quindi ho aspettato a vedere se a fine del mondo avremo un dragon. Non credo che avremo perché ho già visto che avremo Valentina Chelsea e un dragon, quindi probabilmente la fine del mondo sarà per avventure. però è bene. Io prenderò per Galacian a questo punto con solo Tickets. Ok, qui vedete Panther sul background. si usa un whip, non un lance, quindi le attacche saranno diversi, e anche il costume Phantom Thieves che è unico, ma i Phantom Thieves non prendono questo in pubblico. Quando sono in Metaverse questo è dove usano il costume Phantom Thieves costume. Ok, quindi parerò qui per due ragioni. Prima, non c'è punto per andare a fare fornire probabilmente a questo punto vorrei che avessi un po' più pulso perché ho tre pulso che ho ottenuto con il login bonus e non ho usato il risultato mi piace questo risultato veramente felice. Ora andremo sul studio pool vediamo come buona Ann non le apparence che non proprio ok andiamo sul studio po' come vedete abbiamo Ann qui qui è Carmen e persona credo che hanno un buon buon lavoro con l'arte che rappresenta Ann come una fatale è una è flamela gala meme ma come mi rego e io ho una abilità che ha una abilità che ha una abilità abbastanza di distanza contro boss questo non sarà un problema perché boss hanno una abilità ma credo che questo è molto forte perché gli abilità di di 15 secondi secondi bot plus 10% ha un abbastanza low e credo che Anna ha un rapido fire mana caster for strike you can shred through the enemy and gain skill coach very quickly to get the effects out so basically you don't get the buff but you can be quite good especially if you run a team with two scorcher and gala leonidas and the future of fire then we have fill the hit deal damage to enemies so she can inflict herself if she uses it with carmen she deals damage reduces her strength down and dispel one buff from each target okay so this is actually crazy good because it means you buff your entire team because the enemy takes extra damage from any flame attack and of course those don't stack let's see the damage the damage seems decent quite high skill energy requirement but understandable actually even lower when it is a shared skill so maybe this could be quite a good shared skill since it can inflict the scorcher end and then we have of course the scorcher end details last 21 seconds every 3 seconds the health's damage whenever we have a carmen active decent damage then you get strength debuff the spell buff flamer has a minus 5% 5% isn't a lot but it's good enough if you guys remember Midgard summer I believe those 10% wind attuned damage debuff so that always is nice to have okay so let's analyze a little bit more her kit I'd say that it is decent but it all depends if her 4strike has quite the fast recharge on her skill what worries me about done is the fact that her skills have quite the high skill energy requirement 12.000 and 6.000 simi but maybe I am wrong we will see in the Akito guide for sure I also think that the upgraded S1 actually deals a lot of damage because 15.000 plus the modifier with the scorcher end isn't that bad okay then we have coability unique to one increases the chance of inflicting and the duration of the scorcher end by 20% actually quite good especially if you pair up with Kimono Ellison or Gala Leonidas this helps both of them a lot because extra duration and also extra chances of inflicting the scorcher end means that most of the time you will have an uptime of this affliction that works very well chain coability also seems to be unique extend the shape shift time by 20% wow this is crazy good for me actually so I'm quite glad that I got her because it improves my meme dragon time by a lot then we have abilities dancing the panther 2 element fire to certain attacks make sense persona gauche okay and she gets defense buff like Joker and also unique 4strike I'm not sure what the unique 4strike will be I believe that in me it means the use the attack that she does basically Anna in the game as a rapid fire gun so in Dragalia she will have a rapid strike from the mana caster which means that she will shred throughout the enemy overdrive bar and also get a ton of skill gauche from it which can be quite good oh that's actually a very good passive adds 10% to the modifier applied against with not two enemies upon successfully inflicting an enemy with the scorcher end stack up to three times will not activate again for five seconds okay so this seems like permanent because it doesn't have a duration and actually this is crazy good if you stack it up because it means that she gets 30% extra damage I guess for herself and not to the to all the team I guess I will see this in the game but if it is for itself it is actually very good if it is for the whole team it is crazy good I will look more into it when I make the video together to get you guys the correct info on the left panel but I believe that it is only for herself this is actually very 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 good as an ability so I guess her rotation will be something like you spam her S2 until she builds up the buff from flame damage 2 and then you start using your S1 and your S2 upgraded so that you deal crazy damage with Carmen okay so my assessment is that she actually has quite a good potential she seems to be a pure damage adventurer like Joker but probably a little bit harder to use compared to Joker should you pull for Han? well I believe that this banner actually is decent even better than the previous one because you can spark for both Joker and Mona which we didn't know previously so if you like flame lances and if you like Han I'd say yes in general she competes with Galamim who will be probably the king of fire for a very long time so it's hard to say if she will beat Galamim but much like Joker I do believe that she has a place alongside Galamim in general and alongside other scorcher and user such as God of the Unitas and Kimono Elisan so I do believe that she's actually worth it but not probably as worth as Mona and Joker only because I still needed to have a fair assessment on how she is in battle so I'd say yes for the collab and the fact that she's limited maybe for the gameplay aspect of it let me know in the comments if you guys think this is a right assessment I do think that it is because I don't think she feels as essential to Volk compared to the other Volk comps which include of course Galamim with the crazy dragon damage Galaleonidas with the scorched hand, the rapid fire etc but she's a mix of bot in some ways because she has scorched hand, she has rapid fire she has a ton of damage like Meme and she also has a ton of utility buff with the increased damage against wind enemies so so we will see I look forward truly to the Akito guide who knows maybe I will be able to do it in Master as well once again guys the collab is not over tomorrow we will have one of those at this point I will do the Akito guide to if I get time but it is a Sunday so maybe that will be on Monday I really am truly happy that in 40 pools we got done because our luck is finally back and hopefully your luck for your own pools is back as well so for today we are done but I guess that we have an adventurous story to see so we will meet back later on today for that hopefully this is a good one much like the other ones that we got from the Phantom Thieves I am quite happy to say that I have been enjoying a lot this collab beyond the Gashas hopefully you guys have been as well for today this has been Hunter Lodge remember to leave a like and a sub if you want to support the channel remember to let me know how your experience with Persona 5 Catch the Side has been going and if you need any help I am always here to help you with Dragalia Lost and other games of course but for today this has been the Phantom Thieves including Joker on the main screen and now Anne which is a very welcome addition and me of course and I want to give you guys a farewell until the next time we see each other for the Agito Guide Bye! Bye!